Ehi la, sono SansS e questo è SkyBellNautsUnlimited! Dopo aver fatto una visita ai pirati, ci tocca visitare qualche altro mondo. Andiamo a prendere altri Star Hites. Le rovine di Elissi. Eh, eh, Elissi? Elissi, sì. Elissi. Ottimo inizio. Dunque, sarà il tempo di procurare qualche frammento prima di tutto. Vediamo che protese ha sta Rizzi. Non riesco a... Cioè, dove ho letto? Non riesco. Ah, ecco. Questa pianta carnivora può curare molte malattie, ma non riesco a farla crescere. È una pianta carnivora, no? Dagli una bistecca. Saprà fare tutto quello che vuoi tu. Stai. Cura tutte le malattie, compresa te. Dunque. Ah, vuole ancora qualcosa? Aiuto, la pianta vuole qualcosa di più grosso. Non utilizza prima che prenda me. Ah, preferirei che prendesse te. Comunque. Vediamo un po'. No, non volevo la mappa. Questa va bene. Ammazza. Che ha fatto? Cos'è? Ah, carne macinata. Macinato gigante. Questa vogliono le formiche. Il nostro Iria è morto. Creane uno nuovo. Ok. Per essere autoritario si comporta in una maniera strana. E mi vuole picchiere a morte. Vorresti essere il loro leader. Non ci riesci a pensare. Leader delle formiche. Mi sa che non capisce nemmeno perché lo sto ficcando qui. O fare. O per forza fare la cosa ovvia. Ok. È fatto. Sembra che non funzioni. Niente. Ah, penso che vogliono... Sì. Una cosa del genere, più o meno. Ah, cosa vuole questo qui? Sono consegni insignificanti. Aggiungi una città affinché possa integrarmi. Non si può integrare anche se è brutto. È molto abile a cantare. Ma non si può integrare perché è brutto. Ora per forza che sono tutti interessati. Io li fa e poi non li accoppa. E vi ho ragione il gioco. La pia toracica, chi sta allo gigante. Dami la cosa per studiare questi scimpazzè. Studiare molto da lontano. Ok, ha funzionato comunque. Cosa hanno? Una valigetta? Hanno indossato praticamente la stessa roba. Mi mancano altri... Due frammenti. Vediamo un po'. Dove li posso procurare? Sicuramente di sotto. Andando qui sotto. Salve! Aiutami a trovare le ossa di cristallo del re Elissi. Mi viene sempre da dire Eclissi. Aiutami a trovare le ossa di cristallo del re Elissi. Allora... Questa è una delle ossa. Bam! Ora devo trovare qualcos'altro. Questo ne è già uno. Quante ossa saranno poi? Fatto. Fatto. Ce n'è qualcun altro ora? Qui... No. Probabilmente stanno i sotterrani. Eccolo là. Eh, fra poco me ne occupo di te. Sta tranquillo. E' tutto? Mi sa di no, eh? Ah, ecco. Redi cristallo. Pulisci tutto. Ora qual è il tuo problema? Ah! Mi ha reso gigante! Aiuto! Mi riesco a scrivere questi dart impazziti! Au! Sono rimasto senza testa? Fantastico! Non so perché mi fa ridere. Comunque... Lo so. Magari lo rendo abile. Riesce a evitarli? No. Agile allora. Non ce la fa comunque. Mi dovrò occupare di te. Che stai azionando sta macchinetta. E ecografo? Ah, è questo che fa tutto quanto. Rendiamo malfunzionanti anche le maschere tiki. Ma devo distruggere queste robe o cosa? Qual è il tuo problema? Ah, coniglietto dorato. Ah, ok. Ah, ok. Non pensavo che questo potesse aiutare a finire tutta sta roba. Schivare i lardi. Adesso sei gigantesco fino alla fine dei tuoi giorni. Allora sono diventato punteggiato. Ecco fatto. Ora mi sa che ho completato tutti. Sì? Sì, perfetto. E ho completato tutti tutti. Come si torna indietro ora? Che questo mi porto di qua. Ah, certo. Sto buco. Eccomi qui. Ora facciamo le missioni. Equipaggio alla comitiva di coraggiosi avventurieri per un viaggio leggendario. Scribble Quest. Abbatteremo draghi. Salveremo dame. Questo è Scribble Quest. Prepara gli avventurieri per non ricercare Picard. Dai al guardiero un'arma. Ti darò, ti darò, ti darò. Ammazza gente con questo. Puoi al massimo fare il sollerico a qualcuno con quello. Comunque. Dai. È come una forca. Eh vabbè. Diamo io una forca vera. Non la forca penevale. Nel senso. Vabbè. Gioco, seriamente. A posto. Cosa vuole di più? Eh eh. Se non la prendi via adesso ti ammazzavo sul posto. Al brigante piace stare fuori dalla mischia. Dagli un'arma che posso usare dalla distanza. Puh 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 puh. Vabbè. Irrascibile. Lanoso. Dotta. Pugnale arma. Può ammazzare qualcuno con quello. Non sono sorpreso. E infatti già litigano. Lo stregone è un maestro di magia. Dagli un'arma che vi mette a sfruttare i suoi poteri. Vieni qui. Vieni qui prima che ammazzi qualcuno. Vi fai fallire il livello. Vieni qui. Non riesco a cliccarlo bene. Ecco. Non rompere i coglioni. Allo stregone si preva qualcosa. Mi sono dimenticato. Un bastoncino del cazzo. La guaritrice ha un colore di supporto. Dalle qualcosa per guarire gli altri membri del gruppo. Perché è venuta qua per prendersi il bastone inutile? Vabbè. Cosa mi posso dare per guarire la gente? Dura medicina manuale. Mi piace come nome. Dura medicina manuale. Notare come due di questi non hanno più l'arma che dovevano utilizzare. Forza! Non ha utilizzato nessun'arma. Lui non ha utilizzato nessun'arma ma ha funzionato comunque. Meteo! Oh no! Siamo venuti laneggiati. Plonix down! Plonix down! Forza! Sì! Wow! Questo gioco ha cambiato tema. Molto in fretta. Non vi servono quelle robe se potete permettervi di lanciararsi in una specie di ruolo fantasy. È inutile che le gioiate così. È tutto inutile. Alla fine comunque siamo arrivati alla fine della missione e questo è quello che ci importava. Prossima missione perché mi pare che ce ne siano due qui. Giusto... No, è una. Quindi andiamo altrove. Andiamo nel regno perduto delle parentesi. Eccoci qua. L'Arc dell'Alleanza deve essere da queste parti. Portamela. Vabbè, questo è un fetch quest. Ma l'ho già trovata. È qui. Non aprirla però, eh. Sono cazzi due voi. La tua faccia si scioglierà tutta quanta. Beh. Ha avuto la fine che meritava, direi. Qui invece che ho. Spezza la maledizione rimettendo le pietre sulle proprie colonne. Ah, quindi devo trovare le pietre pure. Wow. Quanti fetch quest. Qui invece che abbiamo. Non sono tale. Aiutami a tornare in superficie. Di nuoto no? Di volo? Non serve a niente in questo caso. Che stava facendo? Stava facendo qualcosa? No. Ehm. Ok. Non so come ha fatto... Vabbè. Pazienza. Prossimo sketch di Starlight. E mia sottomarina è troppo grande per spavare più in profondità. Facile. A posto. Vediamo ad aumentare un po'. Ah, non sta velocità di nuoto. Perfetto. Paguro immobile e pietrificato. Sirene immobile e pietrificato. Hmm. Devo trovare, eh, ovviamente, delle gemme? Qualcosa del genere? Maschera tiki. Hmm. Tu lo hai rimasto a dormire? Sveglialo. Perché dovrei? Non sapete i dischi? Che hai fatto? Sì, infatti. Ci credo. Svegliate. Tu lo... Cosa... Cosa potevo mai desiderare al mondo? Se non questo. Rimettiamo questa pietra al suo posto. Perfetto. Devo trovare anche l'altra. Sì. 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 Hmm. Qui non c'è nulla. Nulla di interessante. Qui però abbiamo una pietra. Una cassa. Questa non è una cassa, è una pietra ad un altro gioco. Eliminiamolo comunque. Ecco, sperando di non ammazzare chi ci si trova vicino lì. Non posso attivarla perché evidentemente nell'acqua non funziona. Però posso utilizzare qualcosa per detonarla comunque in acqua. Credo che funzioni bene comunque così. Ah, ce ne vuole un'altra. Un'altra carica, grazie. Fantastico. Demoliamo. Farsela sotto. Ah, eccola la pietra rossa. Sì, sì, sì. Ecco che arriva la pietra. Devo trovare l'altra pietra ora. Eccola. Questa cosa vuole? Basilosauro e mi vuole fare in frappé. Andiamo. Niente frappé oggi. È la pietra giusta. Mi sembra sbagliata come cosa. Perché semplicemente non è una gemma. Ma ha funzionato comunque. Vabbè. Meglio così. E sta l'ora della città. Wow, quanti fammetti sono da sbloccare qua. Occupiamoci di questi due. Dammi qualcosa per governare il mare. Qualcosa per governare il mare. Qua c'è di meglio. Guadagna milioni di euro all'anno, direi. Questa serie a cartoni. Non sai di cosa sto parlando? Poco male. Direi che so già cosa dovrei dargli. Però voglio fare il diverso. E quindi... Domini i mari con questo. Guerra fondaio. Vabbè, ho capito. Come si chiamava quella cosa lì? Non è una forca. È un tridente, ecco. Tridente splendente! Perfetto. Dammi a cosa per convincere questi due che ho vissuto una bella vita. Ecco, lussuosa. Meglio. Dovevi farla più piccola, però non ci entra. Ok. Oro magnifico. È tutto tuo. Non so che cazzo gli devo dare più. Cosa può volere di più? Per dire che ho vissuto una bella vita. Così, no? Va meglio così? Perfetto. La salgezza del marinaio. Muoiono tutti! Il sepoiseidone. Ok. E ora? Au. Potrei morire. Molto male. A me. La doppietta. Facciamo fuori sto pesce. È fatto. Oh, quella sirena ha qualcosa da dirmi. Andiamo a fargli una visita. Eh, sirena. Dammi una geccia del mondo sopra il mare. Oh, senti. La sirenetta Ariel. Mi sembra che succeda davvero o no? Cosa del tuo mondo? Dico nel cartone. Trovo una forchetta di tutta emozionata o no? Ah, io non vedo la sirenetta da quando è uscita. Saranno parecchi anni. Vabbè. Sono più grande della mia dimora. Dammi un altro posto più grande dovevi vivere. Un posto più grande in cui vivere? Direi che è troppo piccolo. Cassa dell'eleminità. Esce appena la coda fuori. L'importante è che sia contento. Adesso facciamo le missioni. Aiuta le capre a non farsi divorare l'altro marino. Non ha molto senso, ma facciamolo comunque. Qualcosa che è lontano vuole il trolmarino. Nutrilo con cibo che ha gusto caprino. Ah? Qualcosa che è lontano vuole il trolmarino. Nutrilo con cibo che ha gusto caprino. Non mi sovviene. Qualcosa che è gusto caprino. No, eh? Canna insultata. Chissà che non è d'accordo. Ma cosa che ha gusto caprino. Ma cosa che ha gusto caprino. Perché non mi lascia fare di capra, almeno? Sarebbe una cosa di ale. Latte capra? No. Mi trovo un po' bloccato qui. Ah, il suo piatto di carne mi vuole far male. Sì, sì, sì. Questo l'ho capito. Voglio capire solo come può funzionare. Qualcosa che ha gusto caprese. Qualcosa che ha gusto... Che di questo diceva la cosa? Gusto caprese. Dagli un frutto così me l'abbatto. Cosa... Perché un gusto caprese un frutto? Ok. Un frutto. Tieni. Va bene. L'importante è che io abbia portato avanti. Alla prima capra il troll ha concesso di passare. Lei adesso di erba gustosa, niente a ingoiare. La seconda capra di vado a mangiare. Dai, altro marino, un'altra delizia. Da gustare. Ok. Una qualunque. Dagli del cibo che abbia il mio sapore. L'aspiranza che mi lascia andare. Capra di montagna acquatico impavido salato. Eh, boh. È salato. Vabbè. Un modo comune, altro per mandare avanti. E poi? Due sono le capri che hanno potuto passare. Adesso tocca all'ultimo provare. Al troll marino piace il tipo piccante. Dagli ho a cosa di invitante. Toh. Delizioso, vero? Mmm. Che buono. Troppo piccante, credo, eh. Andiamo a prendere la nostra stride. A me. Staride. Yay. Oh, bene. Ora facciamo l'altra missione di questo livello. Troviamola. Oh, lì sopra, eh. Devo raggiungerlo, vero? Perfetto. Come al solito. Vai, vai. Uh. Raggiungi. Raggiungi. Scopri cosa ha prosciugato l'oceano. No. Sì, signore. Al lavoro. Eh, sì. Siamo alla città non sorversa in questo momento. La città è stata prosciugata dalla lega degli scienziati pazzi. Distrai lo scienziato con una creatura leggendaria. Sì, signore. Wow. E ora? La fisica nucleare... La fisica nucleare è stanca di studiare l'uranio. Indica un nuovo elemento in cui fare ricerche. Sale. Vuoi fare ricerche sul sale? Va bene. Su cloruro di sodio. Esperto di robotica non può trovare una littera pulita per il suo criceto robot. Mettine una nuova nella cabbile del criceto. Ma ci dobbiamo preoccupare degli animaletti qui. Vabbè. Salvietta. Sì, riempiamo di salviette sto cosa. Non sembra funzionare. Non esattamente quello che volevo. Volevo del truciolato di legno. Inadattissimo per i criceti, ma in fondo è un robot. Cosa gli può far male? Un robot. Come ti feca un robot a proposito? Oh, ok. Peccato che intentiamo un'altra cosa il gioco. In realtà ho sbloccato un obiettivo. Non ho completato la missione. Vabbè. Facco male. Dobbiamo arrivare tutto sta merda qui. Non interamente quella del robot. A me il criceto piacciono gli oggetti metallici. Ma niente, magari. Così si scassa. Mmm. Mmm. Sono bloccato di nuovo. Porca troia. Ci vuole una nuova lettiera. Gli piacciono gli oggetti metallici. Eeeh. Mmm. Va bene questo? No? Niente. Vuole dormire in un letto di bulloni. Ah. Perché non ci ho pensato. Vabbè. Bullone. Metallo. Andato bene? Eh. Fan cooler. A te il tuo criceto metallico. Lo starite può essere preso. Sembra così facile. È una trappola, vero? È finto. Questo starite non chiede altro che essere preso. Oh no. È un falto starite. Il cancello si è chiuso. Oh no. Questa porta si apre solo per i scienziati pazzi. Vesti max sulle con due oggetti per ingannare la telecamera. Ok. Sì. Occhiali da sognitore. Di api, di tech, adobe. Sì. È andato pure bene. Penso che... Penso che ne desse per i camici e non per gli occhiali. Vieni qui. Vieni qui. Va bene comunque. Sì. Va bene lo stesso. Uno scienziato è pazzo anche per quello che ne ha nel cervello. Applica l'oggettivo max sulle per farlo pensare come uno scienziato pazzo. Ok. Naturalmente ciò non può avere implicazioni letali verso il mondo intero. Vabbè. Pazzo. Sono pazzo. Sono pazzo. Il travestimento è ingannato alla soviglianza di cancelli. Adesso distruggi la tubatura. Mentre lo scienziato pazzo non fa niente. E hop. Attiviamola. Scappa, scienziato pazzo. Scappa. Boom. Lo scienziato pazzo è in realtà un robot risposto per autodistruggersi. Trova il modo per contenere l'esplosione. Posso... Vabbè. Gigante affamato. Mangiatelo. Mangiatelo prima che esploda. Vabbè. Una cassaforte invincibile. La posso ficcare lì dentro? No, eh. Volevo essere intelligente. Si fa per dire una volta ogni tanto. Sembra che non voglia studiare a modo mio. Mettiamoci un muro davanti. Va bene comunque. Perfetto. E ora tutti in acqua e a negare che allegramente. Perché non abbiamo scorte di nessun tipo d'aria. Maxwell ha dannato tutto il mondo intero di questo posto. Tutti che crepano. Rivello completato. E ho completato tutto qui. Dobbiamo passare al prossimo posto. Vediamo quanto tempo ho. Ancora un po' di tempo. Bene. A da... A da... A B C D R A B... A A B... A B... A B C D Berg A B C D A B C D Berg A B C D Berg Che posto è l'A B C D Berg? B B B B P Iceberg. Ecco. Ok. Diciamo Iceberg e basta. Ha 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 ha. Sono io che risolvo i problemi qui. E comincerò dal nome di questo posto. Questo posto si chiama... Ecco come si chiama sto posto. Shit hole. Contenti? Voi che avete nominato questo posto a B C D Berg? Scemi idioti. Davide il segno del stracale da scoprire. Il segno del drago. Oh 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 oh. Oh merda. Ho esagerato. Oh 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 oh. No. Ok. Posso ancora prendere tutti i frammenti. Vabbè. A sto punto. Ariete Cerca di trovare gli altri Vabbè Tutti quelli che vengono Che sappiamo più o meno Gemelli Il mio segno Altri ancora? Toro Cancro Quanti ancora? Capicorno Pesci Devo dar vero Metterla così? Ragazza vegana Sì, lei non ha nessun segno di zolecale È senza anima Dunque Senza fissa per i vegani Dunque, dunque, dunque Abbiamo Ariete Capicorno Gemelli Cancro Pesci Ah già, scorpione Scorpione È l'unico modo in cui posso mettere la nome Vergine Ok, qual'altro manca? Ariete Scorpione Toro Gemelli Ariete Toro Scorpione Gemelli Vergine Capicorno Capicorno Me ne mancano un casino che non ricordo Ed è che sono solo 12 Mi pare o no? Ah 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 Non so un cazzo delle cose che dovrebbero sapere tutti Ah che schifo Puoi darmi qualche segno di zolecale tu? Segno di zolecale tu? Già l'ho messo Vabbè Per il momento non mi esce ma Penso che Ho già completato questo frammento Quindi Sforzami più di così Chissà se ho davvero completato tutto o meno Oh no Il ghiacciato si sta affrontando Il santo livello dell'acqua Trovo un modo per fermarlo Ehm Ok Con un altro sole magari O fa 100 per ieri della notte Via Niente più effetto serra Ho risolto anche il problema dei segni sotegali per caso Quanti pianeti sta cazzo mettendo qui? A posto? A posto Astronomia artica Yei E qual è il tuo problema? Voglio una nuova casa Vuole una casa nuova Il piccino qui Ok Ecco la tua nuova casa Vai e vivi Eppure contento Dunque Voglio essere un pupazzo di neve Niente di più facile Una carota E' bastata solo la carota Ok Sul gelato Anche in super scavenaut Se dobbiamo fare un pupazzo di neve Comunque Sorridi Ok E' fotogrammica Perdonatemi Questa non è una macchina fotografica Bene Sorridi So solidento Ehi Eddie So solidento Vaffanculo Non è quello che volevi Vero? Ora dire che ti farò a te la foto Zic Prova Beh quasi Accidenti Ieri ha mangiato la tua foto L'importante è che ho completato Voglio scolpire questo blocco di ghiaccio Tieni Usa questo Eh Artista polare Altro frammento Mi sono messo in ghingeri Per una festa normale Ok Allora Puoi indossare qualcosa di casual Ma il gioco non mi permette Un abito da sera Mettiti ancora di più in ghingeri Non si sa mai Cappello da notte Cappello da nonna Da re Non nera Da corsa Sto gioco a volte Ok Ok Eh cosa posso dargli allora Un maione No Un pesce No No Non so Che dopo Devo creare un party elegante Apposta per lui Non lo so Ah, ok Questi stessi leganti senza un posto dove andare Va bene, va bene Facciamo la missione, dai Aiuto Babbo Natale a provarsi per la grande notte Evviva Babbo Natale Adoro il Natale Che ci fa questa icona qui? Vabbè Babbo Natale in ritardo, aiuta a mettere tre regali per i bambini buoni sulla sua slitta Tre regali per i bambini buoni Un trenino assassino Perché i bambini vogliono tutto quello che è violento il giorno d'oggi Una macchina letale Per buttare sotto tutti i tuoi nemici Macchina giocattolo letale Perché pare che non stia accettando niente Ecco, questo va bene Trenino, giocattolo, assassino Giustamente Perfetto E... E... E' un po' Console violenta Per tutti i giochi violenti Che vuolta combat, eccetera Ma va bene Ma va bene I bambini giocano le console Babbo Natale Che cazzo stai pensando che sia Il Natale dei settanta Nelle settanta c'era... No, c'era il... Ah, sto già pensando all'altra del 1600 E' rotti Prima di quello c'era... Lo dissevano Negli anni settanta... Vabbè, comunque passiamo a Scabonaut Sunlimited Prima che vada in altri argomenti A pensare alle storie dei videogiochi Perfetto Ehm... Cosa posso mai dare? Cavallo di legno... Ehm... Egoista Sì! Un cavallo di legno egoista Ma peccato che non voglia funzionare così Perfido Un cavallo di legno perfido Ma questo gioco non mi vuole dare un cavallo di legno e basta Cavallo da re? Da re, da re Da re rurale da rana... Va bene questo? Non va bene affatto Ehm... Cavallo a dondolo egoista Che cazzo sarà mai? Che cazzo se ne frega se... Tu ti diverti con me Nella stritta metti anche qualcosa per i bambini cattivi Non si sa mai Eh Oltre che a diventare ancora più cattivi Saranno anche completamente brutti o propriosi Ecco fatto E' arrivato il Natale Sarà un gran brutto Natale per i bambini cattivi Toglia neve dalla pista affinché possa decolare con la slitta Va bene Ecco fatto Peccato che ciò non funzioni Nonostante dovrebbe funzionare benissimo Ah bene Su scioglietemi C'è così tanta nebbia che questa volta il nastro della rena non basterà Obbliga un aggettivo alla rena affinché risplenda nella nebbia Ehi Rudolph Luminosa Ecco fatto Adesso sai l'aggettivo anche tu Mi raccomando con quel carbone Fai molta attenzione Oh 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 Boom E' radioattivo quel carbone Yey Strike Yey Il volo di Babbo Natale Sono peggio del Grinch Va bene Abbiamo fatto anche questa parte qui Passiamo al prossimo Al Punto esclamativo Ok Un nome come un altro Benvenuto a Punto esclamativo Eccomi qua Questa scultura è noiosa Per ispirarmi Metti qualcosa sulla piattaforma di legno Ok Qui ci metteremo Ecco a te Che succede Va bene Per qualche motivo Ciò provoca Un grande Un grande terrore L'altro Jack Non si è entrato nella mia grotta Ma Possiamo spaventarla con un forte rumore Camion Ma questo vale l'altro Non va bene Una tromba Suona A casa di Jack Ottimo lavoro L'ha fatto Lì Per sbloccare nuovi livelli Ho ancora abbastanza livelli Da percorrere Check il saltatore Questi ho la quale 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 Aiutaci A scendere Ci penso Sobito Snip Posizione precaria Quale Il vostro problema Puoi avvantaggiarmi Nella corsa Puoi avvantaggiarmi Nella corsa Sapete Che Sarebbe meglio Farlo leale Comunque Sia così Potrete Mamma mia Gli ho dato un vantaggio Pure fin troppo grande Questo abbiamo qui C'è un corpo preistorico Intrappolato In questo ghiacciaio Ma possiamo usare La scienza Per liberarlo La scienza Fa un culo La scienza Prendi il mio Sole Fiammante Fiammeggiante Come deve essere Ma perché Dobbiamo utilizzare La scienza C'è un sole Fate che Non voglia sciogliersi Vabbè Voto Voto Do io La scienza Con un phon Sciogli Ho detto Sciogli Perché non lo utilizzi Non c'è nulla C'è dell'acqua Ho distrutto Il corpo Bene Prossimo Pesso di Starlight Non posso saltare Abbastanza in alto Per seguire Mamma Capra Ci penso io a te Adesso non devi Nemmeno più saltare Basta camminare Peccato che non voglia Comunque andare Capretta delle nevi È pericoloso Ho paura di saltare Adesso che sei idiota Dovresti essere capace Di non avere paura Per queste cose Ma ha paura lo stesso Ora sei coraggioso Mi sa che È morto Coraggio in polvere I mortali Continuano a rubare Le nostre eliquie Aiutaci ad essere Di nuovo venerati Come dei Spada del potere Spada potente Un'altra bene Non so Oh Ha funzionato Ok Le liquidi vine Qual è il tuo problema Con porte di camono Ieti Estremo amici Offeso Dov'è che ho congiunto Sta cosa Vabbè Hmm Oh eh Chi è tu Peccato che non funzioni Ti porti il tuo compagnone Qui Mi sa che non vuole Per nulla stare qui Comunque Comportati come uno ieti E come si comportano ieti Un maleducato Ti posso fare la pelliccia Ok Posso fritti da mangiare Va bene Va bene Va bene Intanto devo ricominciare Questo livello Perché c'è C'è questo tizio Che ho Ho distrutto E devo fare in fretta Perché è il mio tempo Agli sgoccioli Dunque 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 Si può utilizzare la scienza Hmm Non so L'ente inalienata Ehm Hmm Può aiutare questo? Hmm Vogliamo scavarlo fuori? No eh Vogliamo fargli una scansione? Cosa posso mai fare Per aiutare questo tizio Che è intrappolato nel ghiaccio? Hmm Con una torcia? Hmm Non so proprio cosa dai Chi va ad aiutarlo Ehhh Che vuoi essere bloccato qui gente? Di nuovo Comportati come un oieti Ti porto un oieti cocciuto Ok No eh Comportati come un oieti Così va bene Oh Sono diventato bianco E questo mi fa comportare come un oieti Ok A meno fa Ho preso un frammento Ma ora purtroppo devo chiudere qui Ormai il tempo è finito per me ragazzi Vedrò di risolvere questo problema Con questa persona che sta qui Ficcato qua dentro Magari ci riuscirò A tirarlo fuori Senza farlo diventare Un Una pozza di Liquido Di vari tipi di composti Una brodaglia Fino a quel momento Aspettatemi pure Fino al game over Ci vediamo Ciao